Abbiamo fatto prima con i nostri volontari degli incontri nelle aule, quindi abbiamo incontrato i ragazzi a scuola, singolarmente ciascuno, appunto, ogni gruppo nella sua classe e lì abbiamo parlato ovviamente di economia circolare, di carità, abbiamo proprio cominciato ad introdurlo a quelli che sono i numeri comunque del Banco Alimentare e dell'esperienza del Banco Alimentare e anche accendendo in loro una curiosità, guardando tutto il piano normativo e tutto quello che succede nel nostro territorio e a quel punto li abbiamo invitati e quindi poi per un mese e mezzo li abbiamo ospitati periodicamente nel nostro magazzino a Pesaro perché loro potessero toccare con mano e vedere tutto quello che ci eravamo un po' raccontati e anche incontrando alcuni enti nostri convenzionati che poi sono quelli che materialmente prendono il cibo per donarlo alle persone in difficoltà. Nella settimana siamo passati nelle classi a smistare gli scatoloni vuoti che abbiamo montato noi e dopodiché abbiamo aspettato la fine della settimana, ovvero oggi venerdì, che siamo andati a raccoglierli nelle varie classi e li abbiamo portati in un'aula dove abbiamo smistato gli scatoloni per tipo olio, tonno, pasta e così e li abbiamo richiusi, pesati e messi l'etichetta di cosa c'era all'interno delle scatole. Ci siamo singolarmente divisi in diverse categorie, una la comunicazione e una la produzione. Produzione si intende più la parte manuale in cui si creano le scatole che poi andranno distribuite in ogni classe e la raccolta effettiva. La comunicazione invece si occupa principalmente di diffondere i messaggi, ovvero i giorni della raccolta, quello che si può portare e quello che non si può portare. Vorrei puntare l'attenzione su alcune parole fondamentali, ovviamente condivisione, apertura, accoglienza, solidarietà. Queste parole non sono soltanto parole vuote, sono parole che necessariamente devono essere riempite di concretezza e i nostri alunni, ovviamente mirabilmente guidati dai nostri bravi docenti, sono riusciti a dare concretezza a queste parole. Pertanto la riscoperta della solidarietà, della lotta allo spreco, la riscoperta del dono. Abbiamo aiutato i ragazzi a vivere la realtà che è una realtà complessa, dove sicuramente loro si sentono coinvolti con le loro famiglie, con uno sguardo allargato alla cittadinanza e se mi permette è stato anche un gesto che è partito dal cuore nell'attenzionare la persona nella sua totalità, per dare valore all'umano e dare valore soprattutto all'esperienza che accompagna anche la persona più indigente. Anche se è un'esperienza di volontariato che quindi non ci ripaga in soldi o altri bini materiali, ma ci riempie il cuore, diciamo. E questo appunto perché aiutare comunque delle persone in difficoltà penso sia la cosa più bella che ci sia in questo mondo.